L'aglio rosso di Sulmona è conteso tra pakistani e giapponesi. Lo chef Tetsuya Wakuda ne ha testato consistenza e intenso a Roma in un evento al trabocco di punta cavalluccio a Rocca San Giovanni, organizzato dal presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano, per promuovere le tipicità abruzzesi. Ma non solo. A Roma un pakistano è stato fotografato mentre usa il brand dell'aglio rosso per svendere trecce vecchie di dubbe provenienza, ma dimostrando le potenzialità del mercato. A raccontare lo scatto curioso in una zona di Roma molto frequentata, il produttore e membro dell'aggiunta della Camera di Commercio dell'Aquila, Fabio Spinosa Pingue. La foto, se è inquietante da un lato, in spregio a qualsiasi organo di controllo, frodi e sanitario, dice Pingue, dall'altro dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che se anche un non meglio identificato signore di nazionalità pakistana conosce le grandi potenzialità del mercato romano, del nostro oro rosso, vuol dire che bisogna continuare a sostenere, senza se e senza ma, tutte quelle iniziative che da diversi anni, vari organismi come la gloriosa Proloco di Campo di Fano, il neonato consorzio produttori, stanno faticosamente organizzando a sostegno della qualità, della promozione e valorizzazione del rosso di Sulmona. La produzione lorda vendibile, riferita a tutti gli operatori, si attesta a intorno ai 3,5 milioni di euro, riferisce Spinosa Pingue, con circa 150 ettari coltivati, tutti in valle Perigna. La maggior parte viene esportata fuori regione, tra trecce lavorate, aglio venduto sul campo, aglio sbarbato e zolle fresche. Inoltre, negli ultimi anni, si è registrato un aumento dei soci del consorzio, soprattutto giovani, sottolinea Pingue, ricordando che la Camera di Commercio Aquilana ha già finanziato alcuni progetti di valorizzazione.